La prima domanda è il tuo nome e il tuo nome di famiglia? Ido Shemesh. Da dove sei? Israel. Israel. Nel prossimo frattempo, la Marathon di Jerusalemi. Non, ho bisogno di restare un po' un po' di tempo. Ah, ok. La tua raccoglia è oggi? Sì, è stata una buona raccoglia. Mi piacerebbe il pubblico, l'inspiration, l'azione in l'air. È stata una buona raccoglia. Non problemi per il vento? Non, non, non problemi. Great weather. Couldn't ask for a better weather. Is it your personal best? Yeah, I improved four minutes out of my last record. Last question, one word in Italian. Grazie.